La fotografia racchiude in sé anche il significato dello stesso fotografo, quindi il fotografo è un artista a tutti gli effetti, quindi prende la realtà e la trasforma in un'opera d'arte. È stata la Torre di Civitella in Valdichiana ad ospitare la premiazione del primo festival fotografico L'Obiettivo. Il tema di questa prima edizione era l'immagine del ricordo, un'indagine fotografica per cogliere i ricordi del territorio di Civitella in divenire. Sì, direi emozionante. Siamo in questo bellissimo terrazzo che abbiamo inaugurato qualche mese fa, quindi ospitare la premiazione del primo festival fotografico L'Obiettivo per noi è un grande onore, ma soprattutto è un grande onore perché il curatore è un nuovo talento, un giovane talento del territorio, Pietro Marini, che ringrazio a nome di tutta l'amministrazione per il grande impegno che ha messo in questa sfida, che abbiamo fatto tutti insieme e assieme anche ad altri partner. Stasera siamo alla premiazione delle migliori 5 fotografie e siamo molto contenti perché essendo la prima edizione abbiamo avuto un cospicuo numero di partecipanti e anche un alto livello delle foto che ci hanno proposto. Alla gara hanno partecipato 21 fotografi con ben 78 scatti, 5 alla fine le fotografie vincitrici. Le opere sono state belle, di buona qualità, che hanno ritratto il territorio di Civitella, che è un bellissimo territorio della Valdichiana, veramente un posto molto bello, un bel comune. No, una difficoltà relativa, sono venuti fuori abbastanza spontaneamente, la giuria è stata unanime sulle decisioni, quindi non è stato un lavoro molto difficile, ma sempre bello. Tra l'altro c'è da dire una cosa, ho visto alcune delle foto che rappresentano quella che è forse il sapore della terra, dove c'è una storia. La storia si vede nei volti, ci sono state delle fotografie di personaggi qui di Civitella, come il Pierozzi, mentre getta quel bellissimo gesto di gettare la farina, quella è una foto molto piaciuta, oppure quell'altra persona di presa di viso, che è un noto partigiano qui del posto. Sì, raccontano la storia, raccontano il territorio e l'obiettivo, che è poi il titolo del nostro festival, organizzato da Pietro, penso sia stato raggiunto, quello di raccontare storia, persone e territorio di questo comune.